5, 6, 7, 8 Nella nostra grande famiglia di Mediaset è sempre stata un ospite speciale Io devo ricreare un momento magico, irreale, assurdo se vogliamo, ma divertentissimo che è quello dello show Ma anche padrona di casa con il Raffaella Carrascio in onda su Canale 5 per 16 puntate nel 1988 Ma io volevo fare proprio il balletto Esattamente sì, prepariamoci tutto per questo show Io catterò, barrerò Il programma ebbe così successo che ci furono tre speciali abbinati Benvenuta Raffaella e due con il meglio e qualche dietro le quinte Ogni grande show contiene due tipi di storie Quelle che appariranno ufficialmente e quelle segrete che si nascondono nella vita durante le prove e i preparativi Eccitazione, fatica, ritardi, allegria L'emozione delle cose che nascono e crescono giorno per giorno I'm coming to America Oh, say, can you see? I'm coming to America Oh, say, can you see? I'm coming to America Indimenticabile alla corrida con Corrado Ah, posso andare? Che bella Carrascio! Che bella Carrascio! Con Gerry Scotti un rapporto speciale che andava oltre il lavoro Quando arrivava lei, per tutti era, in una grande festa Spiralidoso, supercalifragilistico e 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 spiralidoso, supercalifragilistico e